Comunicato in giornata, arrivo ad Avellino già nella serata di ieri. Approccio con il Mondo Siligas nelle prossime ore. Ike Udano è un nuovo giocatore della Scandone. Termina la telenovela con il rientro in Italia, il ritorno in Irpinia dopo il primo viaggio nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13, con l'obiettivo di essere bianco-virde già in Coppa Italia. Un acquisto solo sfiorato dal club irpino, con Cantù prima a garantire margine di manovra nell'operazione, per poi piazzare un diniego last minute in ottica tesseramento. L'accordo tra Udano e la Siligas non ha subito variazioni, i tentativi degli altri club rimpallati, la volontà di salutare Cantù dopo i mesi tribolati e l'ultimo passaggio negativo con il dietrofronto di Gerasimenko come la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è bastata l'opera di convincimento della nuova proprietà di Cantù e di coach Nicola Brienza. Udano era promesso sposo di Avellino e il matrimonio è stato celebrato. Domani alla ripresa degli allenamenti ci sarà anche il lungo di Detroit, dalle ottime cifre in stagione, versatile e che dovrà garantire certezze anche sul piano fisico, ad un roster condizionato dai tanti infortuni in stagione. La Siligas ha già ritrovato Dimitris Nichols e attende il rientro di Ariel Fioi, Oiar Silins e dell'assistant Massimo Maffezzoli dagli impegni con le nazionali per mettere nel merino la gara di Trento in programma domenica. Giovedì sarà test contro Scafati al Palamangano a porte chiuse.